Siamo al Teatro Goldoni di Cavarzere con Suoranna Nobili e tra poco lei parlerà ai giovani della diocesi di Chioggia. Suoranna, com'era la sua vita prima di incontrare Gesù e com'è adesso? Ma prima di incontrare Gesù sì, ero felice, avevo tanta gioia nel cuore, però era una gioia un po' superficiale. Passavo le mie notti in discoteca, tutte le notti in discoteca fino alle otto e mezza del mattino nella città di Milano. Lavoravo come cubista e poi come ballerina in tv, teatro e in vari locali. Poi è successo che a un certo punto ho fatto questo incontro forte con Gesù che mi ha veramente ribaltato il cuore. Era quell'amore che io in realtà stavo cercando nella notte e quando ho incontrato lui è lì la mia gioia aumentata, una gioia veramente grande, immensa, una gioia che mi ha ridato la libertà, quella libertà che prima non avevo. Cosa si sente di dire alle centinaia di ragazze italiane che sognano la carriera di velina e farebbero qualsiasi cosa per raggiungere il loro scopo? Ma io non facevo la ballerina velina ma la cubista. Quando ho incontrato Gesù veramente il mio cuore è cambiato e anche la mia danza è cambiata. Prima danzavo come fanno le veline per mostrare alcune parti del mio corpo e per piacere agli uomini. Poi invece ho scoperto con Gesù che la vera danza è un'altra, è quella che ti porta a esprimere quello che sei. Credo questo, che aspirare a fare le veline all'inizio ti può dare gioia, con la gioia, perché il mondo ti presenta la gioia come un grande faro ma è un'illusione, è una gioia che poi finisce perché i ragazzi, parlo a te, che ti guardano non apprezzano per quello che tu sei veramente ma per quello che mostri e sicuramente non ti accetteranno come una ragazza da conoscere ma come sicuramente una ragazza da portare a letto. Cosa sono Soranna per lei la vera bellezza e la vera felicità? Per me la bellezza è l'amore, è l'amore, è l'amore che passa tra di noi, un amore immenso, grande, gratuito, libero e liberante, ma è un amore che solo Dio può dare. Noi da soli siamo capaci fino a un certo punto, ci vuole proprio Lui ed è questo che Gesù ha fatto sulla croce, ci ha liberato da questo amore finto, egoista e narcisista e ci ha liberato questo cuore perché noi imparassimo ad amare veramente. Ringraziamo Soranna per la sua testimonianza, per la sua sensibilità anche nei confronti dei giovani e per la sua dimostrazione della vera bellezza. Grazie. Grazie a te.